Un porto in pieno sviluppo per la croceristica. Così, il presidente dell'autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, ha presentato lo scalo marittimo di Crotone all'armatore Gianluigi Aponte, proprietario della MSC, una delle più grandi compagnie navali nel mondo. Il presidente dell'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, ha incontrato Aponte a Ginevra. Le prospettive ottimistiche di sviluppo del terminal contenitori, le conseguenze dell'ETS, le nuove infrastrutture portuali di Gioia Tauro, l'utilizzo del nuovo polo per le riparazioni navali e anche l'ipotesi futura di Crotone fra le destinazioni croceristiche, sono stati gli argomenti al centro, come evidenzia un comunicato dell'autorità portuale, di un lunghissimo e cordiale incontro fra Aponte ed Agostinelli, che era accompagnato dal segretario generale Alessandro Guerri. Agostinelli, a proposito di Crotone, ha proposto ad Aponte di valutare l'ipotesi di farne una tappa nella stagione croceristica di MSC, presentando la località e spiegando che esiste ed è in crescita la stagione croceristica. MSC è la compagnia navale più importante al mondo nel trasporto merci e la terza al mondo nelle crociere con 23 navi e leader in Europa. Ha anche una sezione dedicata alla navigazione costiera con GNV, le grandi navi veloci, nel Mediterraneo, oltre ai servizi traghetti SNAP dall'Italia alla Sicilia, Croazia e oltre. Per il momento si tratta di semplice proposta da parte del presidente dell'autorità portuale, ma a quanto pare Aponte non ha escluso che possa riparlarsene per la prossima stagione croceristica.